Si è svolta al Palacannizzaro la prima edizione della Coppa Sicilia Showdown Ping-Pong per cecchie di Povedenti. 14 concorrenti che hanno partecipato alla competizione, tra cui l'unica donna in Sicilia a praticare questo sport, e Maria Grazia Barreca di Enna, che si è classificata ottava. A vincere è stata la squadra catanese con Ismaele Ragusa, secondo posto Giuseppe Lombardo di Augusta e terzo per la squadra siracusana di Rosario Ferro. La manifestazione è stata organizzata dalla Virtus UIC, l'Unione Italiana Cecchi e di Povedenti, e dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per i Povedenti e Cecchi. La valenza di questo sport oggi, in questo incontro, vuole avere valenza promozionale. Noi cerchiamo di promuovere questo sport proprio per tirar fuori i non vedenti dalle loro case, per dire che potete fare anche voi sport, grazie all'Unione Italiana Cecchi, che è la società che sta organizzando a Caltanissetta, oggi questo evento regionale è molto importante. L'Unione Italiana Cecchi praticamente si occupa dell'indicazione sociale del non vedente, ecco perché è necessario che il non vedente si dedichi anche allo sport. Ci sono tante attività sportive che il non vedente può fare. Tra l'altro non dimentichiamo che ultimamente giocano anche calcetto a 5, va bene? Oltre questo sport che ormai solamente da un paio d'anni a questa parte sta prendendo piede. È un messaggio che lanciamo a tutti che lo sport non è altro che integrazione, e quindi far vedere alla gente che la disabilità supera tutte le barriere. E quindi, come avevo detto l'altra volta, noi penso che l'anno prossimo porteremo il baseball pure per non vedenti, e quindi è il prossimo traguardo che ci prefiggiamo di raggiungere. È la prima volta che portiamo questo sport a Caltanissetto e speriamo che tanti non vedenti si avvicinino allo sport perché è importante, lo sport è molto importante per la persona sia normodotata, tra virgolette, che con disabilità. È un onore avere la quota rosa nello showdown siciliano e speriamo che al più presto entrano altre donne perché è un valore aggiunto allo sport. Grazie. Grazie.